Sono moltissimi gli italiani vittime di phishing una delle principali tipologie di truffe online. La maggior parte degli attacchi avviene via email, ma anche via sms sul proprio smartphone o nelle app come whatsapp o messenger. I truffatori inviano attraverso i vari mezzi informatici messaggi che invitano a un click per accedere ad una particolare richiesta vantaggiosa o per risolvere un problema. E a quel punto si innescano una serie di procedure che portano l'utente ad inviare informazioni personali con la conseguenza di trovarsi poi con acquisti indesiderati o col conto corrente svuotato, ma anche col divulgare la propria rubrica allargando così la sfera delle persone coinvolte e truffate. Come impedire tutto ciò ce lo dice il Codacons con alcuni semplici consigli con cui continua la campagna di sensibilizzazione del pubblico circa l'importanza di imparare a riconoscere i messaggi di phishing e a evitare le truffe. Prima di aprire un'email o cliccare su un link che ci è arrivato tramite messaggio, è bene accertarsi dell'affidabilità del mittente, controllando ad esempio che l'indirizzo di posta elettronica o del sito siano autentici e facendo una verifica sui siti ufficiali richiamati. Un altro elemento da tenere in considerazione è la presenza di errori o refusi nel testo, quindi è bene leggere con attenzione i messaggi. Informazioni come nome utente, password, dati di pagamento devono essere protette perché sono quelle che permettono ai malviventi di mettere a segno i colpi, facendo acquisti o transazioni a spese della vittima utilizzando la sua carta di credito o di debito. È buona abitudine proteggere il proprio computer, telefonino, smartphone, tablet con una password d'accesso, meglio se con la verifica in due passaggi o l'OTP, all'interno di tutte le applicazioni che lo consentono. salvare le proprie password nei luoghi sicuri o criptati, usare software anti-virus, anti-spam, anti-phishing e aggiornarli sempre, non installare software gratuiti a meno che non ci sia stato consigliato da un esperto e infine non esitare a segnalare al CODA con sportello tecnologico qualsiasi perplessità.